Benvenuti o bentornati, sono Gennaro Ricchio, biologo nutrizionista. In questo video vi parlo del software diario alimentare, un software gratuito per Windows e del diario 90 giorni, un diario alimentare e della gratitudine. I principi ispiratori sono questi, solo ciò che è misurabile e migliorabile, misura ciò che è misurabile e rende misurabile ciò che non lo è. Questo video è presente su YouTube, LinkedIn, Facebook e Instagram. Questo software è la versione 1.0, nel video vi parlo di come effettuare, da dove potete effettuare il download, la guida all'installazione e all'utilizzo del programma. Marchi di terzi citati appartengono ai rispettivi legittimi proprietari, sotto nella descrizione del video trovate il link da dove potete scaricare il file e il PDF di questa presentazione e il link da dove potete scaricare e effettuare il download del programma diario alimentare. Il diario 90 giorni è un diario alimentare della gratitudine. in questo diario per 90 giorni ti consente di scrivere ciò che hai mangiato durante il giorno, le sensazioni che provi. È il diario quotidiano di cui c'è il grado di avere e non di quello che ti manca. Ti consente di prendere nota di quale attività mi puoi fare e per quanto tempo. Ti consente di registrare il peso, la pressione arteriosa e la glicemia. È il diario della consapevolezza, quindi da scrivere ogni giorno ciò che hai mangiato, per cui sei grado, l'attività fisica che fai, quanto pesi, la glicemia e la pressione arteriosa. Serve a sviluppare la consapevolezza di ciò che accade al tuo corpo quando mangi. consapevolezza e la capacità di vedere ciò che accade dentro e fuori di te. Questo progetto, questo software diario alimentare, prende anche spunto da quelle che sono le linee guida per una sana alimentazione, la versione del 2018. Il peso è lo specchio della nostra salute. Qui trovate il link da dove poter consultare e scaricare il file PDF delle linee guida. Da dove poter effettuare il download? Dal sito ricchiogenaro.it, nella sezione diario alimentare, fare clic su setup diarioalimentare.exe per poter avviare il download. Una volta scaricato il file di installazione, questi sono i passaggi che si susseguono, quindi poi bisogna fare clic su ok, poi fare clic, una volta che si avvia l'installazione vera e propria, fare clic su avanti, avanti, quindi nella maschera delle selezioni del tipo di installazione, fare clic su tipica e poi fare clic su installa. Una volta completata l'installazione, si susseguono queste due maschere, bisogna fare solo clic su ok, l'icona che compare poi sul desktop e questo diario alimentare. Il software si installa sul disco locale C, nella directory diario underscore alimentare, per poter effettuare dei backup, basta fare clic con il tasto destro sul file diario alimentare e poi fare invia a cartella complessa e viene effettuato questo per poter effettuare un backup nel tempo. Adesso veniamo a quello che è il software, cosa prevede in particolar modo la licenza d'uso, i termini e condizioni di utilizzo. Questa versione di diario alimentare è gratuita e liberamente distribuibile, quindi chiunque può usare e distribuire a terzi questo software attraverso qualsiasi supporto senza portarvi modifiche e senza pretendere in cambio alcuna forma di pagamento, la distribuzione del programma non dà diritto ad avanzare alcuna richiesta nei confronti dell'autore. Ogni copia distribuita attraverso qualsiasi mezzo deve riportare questa licenza. Chiunque utilizza o distribuisca questo software è soggetto a termini di tale licenza. Limitazioni della responsabilità, gli scopi del programma sono quelle di consentire all'archiviazione dei dati di massimo 5 denti riguardanti il peso, pressione arteriosa, glicemia, il diario alimentare giornaliero. All'atto dell'utilizzo e il calcolo del peso ideale e del fabbisogno calorico, l'utente è tenuto a verificare la correttezza dei dati calcolati da diario alimentare per il soggetto. Questo software, sebbene sia stato sottoposto a tutti i test del caso, viene rilasciato sempre in ogni caso, così come senza alcun tipo di garanzia. L'autore declina qualsiasi responsabilità circa eventuali malfunzionamenti, danni diretto o indiretti derivanti dal suo utilizzo, erroni o non leciti utilizzi, quant'altro derivi dal suo uso. Tutti i dati inseriti nel programma durante l'installazione e l'utilizzo dello stesso resteranno archiviati esclusivamente sul computer di chi fa uso del software e quindi mai inviati a terzi né raccolti dall'autore del programma tramite alcun mezzo. Diario alimentare non contiene spyware né alcun altro mezzo lecito o illecito di raccolta di dati sensibili. Eventuali collegamenti al sito www.gennaroricchio.it attraverso i link presenti nel software avvengono esclusivamente dietro al comando dell'utente. Durante le sessioni di collegamento al sito per www.gennaroricchio.it per l'aggiornamento del software o per qualsiasi altro servizio connesso al software non vengono mai in nessun caso raccolti i dati dell'utente o altri dati sensibili archiviati sul computer dello stesso tramite diario alimentare o qualsiasi altro software e supporto. Grazie per aver scelto questo software per gestire il vostro diario alimentare. L'utente che non accetta anche solo una di queste condizioni è vivamente invitato a disinstallare immediatamente questo software ed a non utilizzarlo o distribuirlo. Tutti i valori calcolati poi si fa presente che tutti i valori calcolati dal software diario alimentare sono puramente indicativi. Si consiglia di seguire una dieta piano alimentare senza consultare un medico o nutrizionista. L'autore declina ogni responsabilità riguardo ai calcoli del peso ideale e il fabbisogno calorico. Dopo aver letto tutte le condizioni della ricenza d'uso i termini e condizioni della ricenza d'uso fare clic su dichiaro e poi inserire la password predefinita e la parola oricchio in minuscolo. Dopo aver digitato la password fare clic su login e adesso andiamo a vedere le varie sezioni del programma. Questa è la prima maschera che compare una volta eseguito il login. Il primo passaggio che si consiglia è quello di modificare la password facendo clic su password si va qui ad inserire e cancellare quello attuale e inserire la nuova password. Una volta inserita la password fare clic sulla freccia a sinistra per ritornare sulla maschera precedente. Adesso andiamo a vedere qui è possibile se inserire i dati di cinque utenti oppure lo stesso utente può configurare questi cinque diversi profili per altre tante fasi del proprio percorso nutrizionale. Quindi c'è libertà di scelta o più utenti oppure lo stesso utente che definisce cinque diverse fasi del proprio percorso nutrizionale. Comunque la prima cosa importante per ogni profilo è quello di andare a modificare i dati dell'utente dati fondamentali dati obbligatori che poi determinano tutti quelli che sono i calcoli sul fabbisogno nutrizionale di altri valori che dipendono dall'età dal sesso dall'altezza dal peso quindi è fondamentale inserire la propria data di nascita il sesso l'altezza e il peso. Una volta inseriti questi dati fare clic sulla freccia a sinistra qui viene riportato un collegamento su quello che il diario 90 giorni è un diario cartaceo che può essere sia complementare a questo software ed è anche complementare a quello che è il lavoro del nutrizionista questo tipo di iniziativa sia il software che il diario non vogliono in alcun modo e non possono sostituirsi a quello che è il lavoro del medico o del nutrizionista per quanto riguarda il percorso nutrizionale quindi qui trovate il link dove potete poi procedere all'acquisto del diario cartaceo della versione cartaceo su Amazon la schermata sempre iniziale è composta di tre sezioni quindi il diario del peso la sezione dati e la sezione farmaci intagini cliccando su dati come si vede qui c'è la possibilità di andare a inserire quelli che sono i dati fondamentali che riguardano la persona o il profilo che ha configurato la persona dopo aver inserito i dati facendo calcolo clic su calcola peso nei campi con lo sfondo in giallo vengono poi visualizzate le elaborazioni quindi nel caso del peso desiderabile peso ideale e l'eventuale poi percentuale di sovrappeso l'ultima sezione come dicevamo è la sezione farmaci e indagini dove è possibile prendere l'ota delle terapie che nel tempo seguite e delle indagini dove puoi riportare in particolar modo poi quelle che sono le indagini che nel tempo sono risultate alterate quindi cosa fare poi tutti i giorni il diario veniamo all'esecuzione vera e propria del diario qui inserire la data del giorno in cui si effettua la misurazione qui inserire il peso del giorno e poi fare click su questa icona qui a destra per accedere al diario del giorno una volta fatto click qui sul diario poi qui verrà in automatico calcolato il BMI che è l'indice di massa corporea questo è il diario alimentare come vedete nella parte sovrastante sulla parte sopra qui sono i dati dell'utente la data del diario l'età il BMI secondo i due diversi parametri in uso il peso l'altezza e poi le varie sezioni del diario è diviso ogni mattino sera dove qui è possibile registrare quelle che sono i buoni proposti cioè le tre cose per cui sono grato oggi il diario della gratitudine come dicevamo da poter qui poi scrivere quindi le tre cose per cui sono grato la mattina tre cose più importanti da fare oggi e poi la sera il resoconto della sezione sera dove è possibile annotare le tre cose in cui sono migliorato oggi rispetto a ieri le tre cose che avrei potuto fare potuto fare meglio ovviamente potete personalizzare qui potete prendere nota di tutto di tutto ciò che ritenete importante per la giornata però è bene sviluppare questo tipo di approccio anche i propri pensieri poi andiamo nella sezione colazione spuntino nella sezione colazione spuntino è possibile registrare cosa avete mangiato a colazione quello che era stato d'animo prima e dopo la colazione registrare l'orario di inizio l'orario di fine perché è importante tener conto anche di quanto tempo si impiega per mangiare perché mangiare lentamente masticare bene è sempre un prerequisito fondamentale è possibile poi registrare nella sezione spuntino i due spuntini della metà mattina e del pomeriggio sotto qui trovate la sezione dei costi energetici di varie attività espressi in chilocalorie per minuto per maschi e femmine tratta sempre dalle linee guida e le chilocalorie apportate da alcuni alimenti e tempo necessario per smaltire sorgendo alcune attività questo ho inserito questi due tipi di notizie di tabelle che sono ricordo tratte dalle linee guida per una sana alimentazione italiana alla revisione del 2018 proprio per stimolare per sviluppare nell'utente quella che è la consapevolezza e quindi dicevo nella tabella 1 vengono riportati i costi energetici di varie attività espressi in chilocalorie per minuto per maschi di 70.000 kg da 30 a 60 anni e femmine di 57 kg da 30 a 60 anni quindi qui come vedete vengono riportate le chilocalorie per minuto delle varie attività salire la scale 5,8 chilocalorie per minuto per i maschi e 4,5 per le femmine qui nell'altra tabella tabella 1.2 vengono riportate le chilocalorie apportate da alcuni alimenti e tempo necessario per smaltire svolgendo alcune attività quindi questo può essere una fonte di indicazione di riflessione per l'utente ma tutto questo tipo di notizie sicuramente non possono e non vogliono sostituirsi a quello che è il lavoro del medico e del nutrizionista ma servono esclusivamente a sviluppare a mantenere quello che è il livello di consapevolezza dell'utente sul percorso che sta seguendo il percorso nutrizionale nella sezione pranzo è possibile registrare ciò che si è mangiato a pranzo sempre in lista di danimo il livello di fame prima e dopo questo per vedere poi nel tempo come va la propria diciamo esperienza il proprio approccio con il cibo e poi registrare cosa importante i pensieri prima durante e dopo il pasto la stessa cosa per la cena qui è possibile registrare le bevande il fuoripasto ciò che si è mangiato fuori dai pasti principali l'ideale sarebbe non mangiare niente però diciamo qui è possibile annotare eventuali fuoripasti le bevande il tipo di bevande l'attività fisica che tipo di attività fisica e attività motorie per quanto tempo nella sezione misurazione è possibile registrare la glicemia di giuno la glicemia dopo il pasto 2 euro dopo il pasto la pressione arteriosa massima e minima la frequenza cardiaca il colesterolo totale l'HDL l'LDL è possibile anche calcolare il colesterolo LDL e i tri e i trigliceridi e qui di fianco vengono riportate quelle che sono le misurazioni l'andamento delle misurazioni nel tempo nella sezione fa bisogno calorico dopo aver inserito dati fondamentali come la circonferenza del pulso l'ampiezza del gomito la circonferenza vita la circonferenza fianchi la circonferenza addome la circonferenza braccio tutto è espresso in centimetri facendo clic sul calcolo fa bisogno calorico viene definita calcolata quella che è la struttura fisica il peso ideale secondo diverse formule che però devono risultare come il calcolo del fa bisogno calorico soltanto indicative calcolo del fa bisogno calorico come vedete il metabolismo basale poi c'è il livello di attività vengono indicate quelle che sono le calorie necessarie durante il giorno il dato più importante è quello del fa bisogno il calcolo del fa bisogno dell'acqua di quanta acqua bere bere al giorno quindi ribadisco tutti questi calcoli sono puramente indicativi che servono sempre a sviluppare la consapevolezza nell'utente di quello che comunque deve essere l'apporto calorico giornaliero perché comunque tutti i percorsi nutrizionali i piani alimentari partono comunque da una necessità da una restrizione calorica e in base al profilo che il nutrizionista ha scelto di restrizione calorica in base a quanti chilocalorie vengono assegnate nel piano alimentare in meno rispetto al fabbisogno e quindi la percentuale e qui andando a indicare uno un per cento mediamente è quello che viene scelto un per cento di riduzione di perdita di peso settimanale facendo clic quindi su calcolo peso è possibile elaborare come vedete quello che è la riduzione di peso il dimagrimento atteso in 25 in 25 settimane quindi 25 settimane con una riduzione di peso settimanale di un per cento però si può impostare allo 0,5 1,5 2 per cento come vedete dopo nelle varie settimane qui c'è il peso raggiunto dopo le varie settimane trascorse e qui la riduzione di peso che è intervenuta rispetto rispetto all'inizio quindi abbiamo detto una riduzione per settimana dell'un per cento quindi come vedete nella prima settimana è attesa una perdita di peso di 860 grammi ovviamente questa è una stima e poi dovete sempre prendere in considerazione come media di quello che è l'andamento del tempo dopo aver fatto clic su calcolo peso per 175 giorni facendo clic qui sul secondo passaggio sul pdf viene elaborato un pdf dove vengono riportati tutti i dati riepilogativi di quella che è la situazione della persona alla data della valutazione e qui vengono riportati dall'inizio tutta l'elenco di tutte le misurazioni e quindi come vedete il numero della settimana il peso dopo una settimana oppure dopo la quarta quinta settimana qui viene riportata la percentuale di perdita di peso attesa il kg poi che il peso che è perso rispetto al peso iniziale e qui la differenza rispetto alla settimana la differenza di peso rispetto alla settimana precedente su quest'altra icona sempre sul pdf qui trovate sempre cliccando su pdf trovate il diario delle misurazioni dove vengono riportate qui sotto tutte le misurazioni nel tempo del peso della glicemia e della e della pressione tenete presente che anche sulla maschera qui iniziale qui è possibile sempre come nell'ambito delle elaborazioni in pdf di poter stampare quello che è il diario del giorno proseguiamo ok io vi ringrazio vi ringrazio per l'attenzione e trovate questo video su facebook youtube linkedin e instagram instagram